Bella a tutti ragazzi, buonasera a tutti, sono Luigi Francesco Faccio questo video velocemente ragazzi perché volevo avvisarvi che domani, non lo so Oppure un altro sabato, non lo so, però forse domani farò una live sul torneo di FIFA 16 E in più ragazzi, o adesso, o tra poco, oppure domani, non lo so, cambierò, aggiornerò il mio canale YouTube Infatti, dopo tantissimo tempo che ho aperto il canale Ho ottenuto sempre il nome, il club dell'Oresonato 2018 La foto di me e Alex Maverick, che siamo così, con queste cose come per dire che siamo dei nuovi progetti Come se stessimo pensando a nuovi video E poi la descrizione del video, che sembra un po' strana Infatti, aggiornerò tutto il canale YouTube Poi per la foto ci penseremo, io e Alex Niente, volevo farvi questi due avvisi velocemente Che domani, forse, ci sarà il torneo di FIFA 16 Quindi mi raccomando, andate tutti a vederlo Mi raccomando, non sono assenti Perché non ho fatto una live sabato scorso Non c'è stato nessuno E quindi mi raccomando, ragazzi, per favore assistete alla live di domani Se la farò o se la farò una sabata E poi, tra poco, non so Quando la farò, ma penso tra poco Assesseremo agli aggiornamenti del canale YouTube Infatti, il nome sarà DJ Frank e Alex Maverick E non sarà più il club dell'ora esatta Perché dopo tanto tempo Questo nome, l'ora esatta Vabbè, voglio darvi questa veloce informazione Questa veloce avviso E niente, buonasera a tutti Ci vediamo dopo il video Ciao